La determinazione è identica a quella evidenziata in pista da oltre 15 anni e che gli ha procurato gioie e trionfi in magliazzurra a livello internazionale. Questa volta però il contesto per Eusebio Aliti è ben diverso ma altrettanto stimolante e la competizione da agonistica assume le sembianze di un vero e proprio sprint elettorale. L'obiettivo del trentenne bicegliese originario di Scutari, presidente dell'ASD Ocorro e direttore tecnico del gruppo sportivo Avis Barletta, è la presidenza del comitato regionale FIDAL, le cui elezioni si terranno a Bari sabato 16 gennaio. Aliti, nel cui curriculum spicca la laurea magistrale in giurisprudenza ed un master in diritto sportivo alla Sapienza di Roma, contenderà la più alta carica dell'organo federale pugliese al presidente uscente Giacomo Leone. Siamo sul rettilineo finale, abbiamo avviato, è stata dopo la prima fase di ascolto delle associazioni, quindi presentazione del programma e infine insomma gli incontri e il contatto con le associazioni. Ora siamo a una settimana, quasi una settimana dalle elezioni, continuiamo il nostro lavoro di presentazione del programma e del nostro gruppo di lavoro. Programmi chiari e concreti nel segno della collegialità e del riconoscimento delle competenze, un aspetto su cui Aliti si sofferma con particolare attenzione. Credo fortemente in un gruppo di lavoro, non nel singolo, bisogna essere un team di persone, ognuno con le sue competenze e capacità che ha già dimostrato di avere e aver messo in atto in varie situazioni, in organizzazioni di eventi, in promozione, in marketing e in capacità di gestione e sensibilizzazione verso le associazioni sportive e coloro che sono gli attori principali della nostra attività, cioè gli atleti. Ecco infine la ricetta di Aliti sul cammino da intraprendere per far compiere un ulteriore salto di qualità all'intero movimento dell'atletica pugliese. Siamo in un momento di pieno cambiamento per lo sport, attualmente i scenari sono profondamente cambiati, noi dobbiamo avere la capacità, la velocità di adattarci a questi cambiamenti e quindi serve attività giovanile, servono giovani che hanno idee chiare, che hanno capacità di metterle in atto non solo conoscenza, ma che siano da campo, quindi che siano dirigenti, che siano atleti e che facciano parte di questa attività, di questo movimento.